Chi ha palaria, monca mega Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, buonasera Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti Allora, spero abbiate passato un buon... Questa è bella Mercoledì, ok Un buon mercoledì, spero abbiate passato un buon mercoledì Siamo qui nella fine del mercoledì Odia le punture, grazie Saldier, com'è bello Pog, grazie Saldier In pratica era un bacio sulla mano E poi te lo struscio sul pisello Era una cosa fatta apposta Pisello perché questa è una live cristiana E non volgare Quindi non si dicono certe parole Mi ero dimenticato della live audio Com'è possibile Manu, com'è possibile Ci sei ogni sera Com'è possibile che ti dimentichi Continua a pensare che sei figa come donna Come come Monca Omega Clap Quindi buonasera a tutti Buonasera, sono a casa da solo Una settimana, Ez Che benessere Mauro Ebbè puoi anche urlare come facevo io ieri Odia l'ossigeno Ma devi guardare il calendario per sapere che giorno è Sì Quindi Quindi ragazzi E quindi Quindi Vi devo chiamare Cikibe che dica E quindi Come lo facciamo noi Eh Se no Se no voi non Se no voi non crede Ragazzi Stacco la live E appena stacco la live Ragazzi non ce l'è per nessuno Perché devo andare a cagare Quindi non rompete poi Se stacco la live a luna E non a lune 5 Perché No vabbè Lune 5 sì perché È incominciata 5 minuti dopo Ma Non rompete se no Stacco a lune 6 Lo sai che dopo domani Hai esame Eh sì che lo so Sì quindi esatto L'unica cosa che mi fa capire Che giorno è E come orientarmi no All'interno della vita E del calendario E della settimana È il fatto che so che venerdì C'è un esame E quindi so che dopo domani Cioè in Tria so Che dopo domani c'è Domani c'è Dopo dopo domani Cioè quindi riesco a capire Che giorno è per quello Se no alla fine Odia gli ossigeni grassi Odia le live Dance game Ma quando la prossima live Su giochi horror random Non lo so Ivan Ma dalla prossima settimana Ci sono un bel po' di novità Come giochi Come cose da fare Perché Questa settimana Finiranno sia Soul Che Walking Dead No Ho alzato gli occhi al cielo Non perché sono pazzo Ma perché stavo pensando Che poi qui mi sono accorto Di avere un pacchetto di cracker E chissà Chissà da quanto tempo Io non ho il coraggio Di mangiarli Perché potrebbero essere lì Da mesi Quindi non ho veramente Il coraggio Però questa settimana Finiamo Eh sì esatto Esatto ragazzi Molti di voi Ci hanno già azzeccato Questa settimana Finiamo Allora Venerdì Finiamo Walking Dead E domani Finiamo Soul Quindi La settimana prossima Odia i pazzi Odia l'odio Dance game Quindi la settimana prossima Abbiamo un po' di cose nuove Tra cui ovviamente Crash In Saint Trilogy Ovviamente Allora Crash in Saint Trilogy Però se lo facciamo Speedrun è una cazzata Non vuol dire niente Quindi dobbiamo giocarlo Cercando di completarlo al 100% Altrimenti Non c'è sfida Altrimenti Corro per i livelli Non vuol dire niente Quindi Quindi settimana prossima Crash Pog E magari già Lunedì si inizia Appunto punteremo al 100% Perché assolutamente Se no Non ha alcun senso Cioè Non è Non è Non c'è la sfida Se no Non c'è Non è che odio E ci rimane vuota Eccolo il nostro dodicenne Allora E poi abbiamo Una live alternata Che ci Che ci rimane vuota Perché ci rimane vuota Ci rimane vuota Perché appunto Abbiamo crash Vuoto Crash Vuoto Crash Vuoto Eccetera Eccetera Quindi In quelle live vuote Dobbiamo scegliere cosa fare E o C'è Appunto Un nuovo let's play Vero e proprio Oppure Sborso 40 euro Sto cazzo No lo compro da qualche sito Di chi O quant'altro Sì sto cazzo Pago 40 euro L'Incent Trilogy Ma stiamo scherzando Io sono genovese Secondo voi Spendo 40 euro Per crash Quindi Odia il vuoto Fils Weirman Quindi c'è Sicuramente Facciamo qualche 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 Cazzo Mi passa di mente Tutto però Qualche Horror Perché mi è stato Io Io stesso Voglio fare Infatti avevo pensato Di fare Comunque addirittura Una serie fissa Però horror Tipo Che so Silent Hill 4 Che non l'ho mai giocato Il 4 Però mi è sempre Piaciuto tanto Il concept Che c'è intorno Non ho la play Non posso fare God of War Sei maturo Per avere 12 anni Grazie Ale Grazie Lo so Lo so Mi sono Mi sono sviluppato Molto molto presto E E quindi appunto Pensavo di fare Appunto O Silent Hill Perché ovviamente Non possiamo fare Indie horror Sempre Per il semplice fatto Che fanno tutti schifo E dovrebbero esserci Ne 10 Alive Porta il Resident Evil Ma non è horror Il Resident Evil Il primi Sì Ma quelli nuovi No Quindi Non sa cosa sta dicendo Non sa cosa sta dicendo Eh sì In verità sì In verità non lo so Non lo so davvero Autismo Lull Autismo Quindi Niente Vi volevo solo quindi aggiornare Un po' sui progetti Per la settimana prossima Fra l'altro Conoscenza Riguardo a questo gioco Insieme a tutte le bestemmie Che ho tirato Per completarlo Al 100% Ho giocato Solo l'originale Come 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 Il 7 Il 7 Il 7 Porta il 7 Porta il 7 Porta il 7 Allora Allora Vi devo fare 7 7 7 Vi devo fare Allora uno stropollo Poi vi devo fare uno Stropollo Però ragazzi Prima Tanto c'è Crash Che è sicuro Allora vi faccio Uno stropollo Non ora Più tardi Questa sera Però Questa sera Vi faccio uno stropollo Stavo Comunque sto scrivendo Una canzone per te Ma serio Ale? Ma seriamente? Ma non Non so Se è un Jbait Incredibile Mi stai trollando Una canzone per te Amami e basta Ma non ho capito Non ho capito Se sto venendo Preso in giro Se sto stando Preso in giro Non Una canzone Pog Una canzone Jbaited E io non capisco Però se è vero No Io 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 mi fido Delle persone Ti giuro La stavo già pensando Questa notte Io non ho parole Non ho parole Ivan Le dichiarazioni Mi commuovo facilmente Preparati al trash Però Allora ok Però mi commuovo Comunque Anche se è trash Io mi commuovo E no E io mi commuovo Ora piange Pog Ora piange Eh sì Eh sì che piango No No Grazie Ale Grazie Ora Ora sono curioso Ora sono curioso E commosso Però Però non me le puoi sparare Così in live Ste cose Cioè Di me l'ho in privato Così riesco a gestire Meglio le emozioni In live Poi Devo far finta Di essere Un uomo virile E non posso piangere Eh Comunque E niente Eh Vado Vado avanti Ma non me l'aspettavo Questa cosa Grazie Allora Andiamo avanti Allora Odia la commozione Sì Lo hai fatto apposta A dirlo in live Ovvio che l'ha fatto apposta L'ha fatto chiaramente apposta Perché si diverte A vedermi arrossire Si diverte A vedermi arrossire Perché sa che Le vie è facile Raga Quale è la chat di Twitch Nella quale Se fai tipo Il monka Ti escono tutti i mo Cosa vuol dire C'è Nisa È quella normale Devi Credo che tu debba avere La donna Di Franker Faces E la donna Puck pure Cioè L'estensione Di Franker Faces E la donna Puck Credo che siano quelle Che ti fanno apparire I I cazzilli Ok I cazzettini Quando scrivi Che ti compare L'elenco delle cose Odia arrossire Quindi Andiamo avanti ragazzi Andiamo avanti E c'è Tommy Che dice Grazie No Questi sono di 21 ore fa Manu KM Che dice Mi ho dimenticato Della live Autism Lulle Ma che bel viso Senza peli Come il culetto Di un bambino Continuo a pensare Che sei figa Come donna Grazie Manu Oggi Veramente in tanti Mi avete veramente scritto Che sono una bella donna Io non so Se prenderlo come un complimento Nel caso un giorno o l'altro Mi partisse l'embolo Di cambiare sesso O O se sia una trollata Perché effettivamente Comunque Come uomo E No Datemi un voto come uomo Adesso mi arrivano gli uno Un voto da uno a dieci come uomo Ora mi aspetto in chat Una media di 5 e 6 Come donna sono un dieci Però Come donna sono un dieci Meno uno Zero Infatti Sette Grazie brave Quindi Come donna sono un dieci Otto Come donna sono un dieci E quindi io stavo davvero pensando Di Comunque Che Mal che vada come uomo No Mal che vada come uomo Comunque ha un futuro Come donna Solo per la barba Sette Due e mezzo Grazie Matteo Grazie Grazie a tutti quelli che hanno scritto Otto Che era il voto giusto Chiaramente Grazie Quindi Come donna sono un dieci pieno Direi Quindi secondo me si può fare Fatti crescere i baffi Non parliamo di baffi Che ho fatto una foto Con i baffetti Lesbichiamoci Ma tanto tu sei un perfetto Johnny Depp Ale Quindi io ti cambio sesso Tu pure Siamo comunque messi a posto O se no Si Lesbichiamo Tranquilla E quindi Sono una bella donna Comunque E oggi l'ho scoperto Sembravi una certa persona Così potrò farmi Con i baffetti Eh ho capito Però non posso dire chi Perché sennò parte del ban Buonasera figone Di Donne Buonasera family Come stai? Per una volta Per una volta Da Tipo Mesi Anni Eoni Risponderò La domanda Come stai Perché sapete che di solito La ignoro malissimo E sorvolo Per una volta Ti posso rispondere Ciccio bello Sto bene Per una volta Rispondo A una domanda Ah cioè A questa domanda Per una volta Perché oggi Mi sono arrivate Le mie cose Avevo paura Di essere incinta No Allora Oggi Ma se faccio volare Un burro in Inghilterra Divento una farfalla Madonna La battuta che hai fatto dopo È orribile No comunque Per una volta Rispondo Alla Rispondo alla domanda Che mi hai fatto Cioè Che mi fate sempre Ma a cui non rispondo mai Che mi fa sempre Tommy Infatti due righe dopo Buonasera a te A tutti Giordi Come stai? Nian E Willy Per una volta Posso rispondere Che sto bene Perché oggi Mi sono arrivate Un sacco Di belle Notizie In cui speravo Da morire E quindi Sto bene Quindi per una volta Rispondo Per davvero A questa domanda Invece di sviare Invece di sviare Per una volta Rispondo Oggi ho avuto davvero Delle belle news Quindi Ciccio Ma se faccio volare Un burro in Inghilterra Diventa una farfalla Perché butterfly Questa cosa La sorvolo Il padre È tetragramma Sì a furia di fare I pippe Da qua in alto Qualche schizzo È arrivato anche A sotto Sei figone Un figone Della madonna Della figaggine Grande re Edz figone Grazie Ciccio Tu sei il ragazzo Più bello del mondo Però ricordalo sempre Oggi ti preparo Una pasta all'olio Di semi di soia Con peli di gatto Dovevi No io mi aspettavo Lo spam di soia Sei proprio una gioia Gioia Io mi aspettavo Quello Ciccio Susan Ti devo scrivere una cosa Ma ora non me la ricordo Una bestemmia Ciao Ok grazie Ciccio Poi abbiamo Sunderland Se vuoi finire Crash al 100% Allora cercherò Di infonderti Tutta la mia conoscenza Riguardo a questo gioco Insieme a tutte le bestemmie Che ho tirato Per il capitale al 100% No ragazzi No Non ci saranno Durante le live di Crash O comunque delle altre cose Soprattutto nei giochi difficili Niente Advice Fags Niente Advice Friends Chiamiamoli così Perché Fags Può essere offensivo Che mi dicano Cosa fare Se mi vedete Crogiolare Nella sofferenza Perché non riesco a capire Come fare un qualcosa Lasciatemi soffrire Ok No Non datemi una mano Quindi Sunderland Grazie per i 10 bits Grazie per volermi dare una mano Ma non Non Tipo Dark Souls 1 È stato così facile A parte perché è un gioco per bimbi Così un po' Mentally challenged Ma comunque È perché Anche mi avete dato Una grossa mano voi E sarebbe stato molto più difficile Invece senza una mano Quindi Vuole Vuole soffrire Hyperlul Amava Soffrire Non è che amo soffrire È che Senza aiuti È più divertente Perché Soffro di più Non perché mi piace soffrire È che C'è più sfida Ok C'è più sfida Poi che mi piace soffrire E quindi mi faccio le cose Tipo farmi Camminare addosso No Dalle mistress Dalle dominatrix Coi tacchi No Mi faccio camminare Coi tacchi Nei bulbi oculari Mi faccio camminare Coi tacchi Nella fessura Della cappella Quelle sono cose No Private Che non c'entrano Con le live in sé Come 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 Tommy Buonasera a te a tutti Giordi come questi Questo l'avevo detto Come potrò farmi le seghe su di te Con il quintuplo del godimento Senza sentirmi gay Ah perché divento donna Quindi ti puoi fare le seghe su di me Senza sentirti gay Ma Ma non basta che prima di venire Dici no homo E non è gay Lorecossa Rasati il culo Non lo farò mai Mai Non avrete mai il mio culo Mai Quindi una mano non te la Monca mega Quindi una mano non Non te la danno Chi Le dominatrix Che mi camminano sul petto Con i tacchi Perché mi piace la sofferenza No però ragazzi Seriamente esiste quella gente Sapete quei video Che trovate su internet Quelli che linkate ai vostri amici Per farli Per farli sboccare Tipo Chi ma soprattutto Non ho capito Ivan Di cosa stai parlando Tipo Two girls one cup Quello storico Non incredibile Delle tipe Che si cagano nelle coppe Se lo mangiano Ecco Quei video che si linkano Le persone Per farsi sboccare a vicenda Esistono quei video Perché me li hanno mandati I video di quella gente Che si fa camminare Sopra Gli organi genitali Con i tacchi E io soffrivo Io soffrivo Un tavolo con una gamba E una dominatrice La cosa migliore Rimane un tavolo Senza gambe E un tagliere Quella cosa Rimane una Un pensiero Laterale Fuori dagli schemi Bellissimo Two kids One second No ok Ora non li voglio Non voglio dire i nomi Di questi video Perché non voglio Che certe persone Magari più Come dire Più Avete capito No? Più Cazzo Più legger Più Non mi viene Viene il termine Qual è il termine ragazzi? Cazzo Non vedo le emot Aggiorna la pagina Mauro Com'è il termine? Più Deboli di stomaco Magari Che non se lo aspettano Vadano a Vederlo E E Ci rimangano poi Magari stiano Sbocchino davvero Ecco Quindi non voglio Sponsorizzare Certi video Ne ho solo parlato in generale Non dite i nomi Di tali video Cazzo Riii Sensibili Sì Sensibili Deboli di stomaco Impressionabili Impressionabili Anche 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 Impressionabili Direi che ci può stare Come parola Bene ragazzi È giunto il Momento Più brutto Delle live Il momento più brutto Ovvero Il momento in cui io Io vi devo privare Del vedermi Molto grande Mi dispiace Lo so Che sono Scusate per il ciuffo Lo so Che Lo so che è una sofferenza Vedermi sempre più Impicciolire Potervi solamente Così Così Godere No Della mia vista In piccolo Avvicinando la faccia Allo schermo Ma è il momento Del recap Fils Badman Odia essere grande Odia essere maturo Allora E si va Beh per un dodicenne Come Come ha detto l'Ale Per un dodicenne Sono maturo Comunque Dai Dai Ma io lo volevo grande Faccio come le Bubi streamer No Che si mettono Le tette grosse E il gameplay In alto a sinistra Mettiti piccolo All'angolo in basso Perché Pogga Così È più bello Ma che bello Così Bello Si mettono Le tette Non ho detto Che si mettono Le tette Questa cosa Fa sempre ridere Solo me Non capisco Perché Non lo so Perché mi faccia Ridere Ok Potete Non giudicare Quella cosa È l'unica cosa Immatura Che mi faccia ridere Poi mi fanno ridere Solo le cose mature Che parlano Comunque di cose mature L'economia La finanza E Gli sprechi No Di cibo Nel mondo Solo cose mature No Fils Weird Hyper Che ridere Ragazzi Mi ha fatto ridere Una volta Ok 19 centimetri Esatto Ricordiamolo sempre Io l'ho Io l'ho visto Oggi Questa cosa L'unica meme Che ho visto Oggi Prima Di incominciare No aspetta Una sega Con un guanto Pieno di puntine Se vi può interessare C'è un video Porno di Andrea Di Pre Dove si va a fare Una sega Con un guanto Pieno di puntine Sinceramente Non fosse stato lui Se avrei stato curioso Di vederlo Per semplice Curiosità umana Ma dato che è lui Mi sta sui coglioni Evito Mi dà fastidio Da dare views A una persona Del genere Come 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 Eh sì Eh sì Ma beh C'è di peggio Su internet Purtroppo Comunque Questa ripeto ragazzi Me la sono spoilerata Prima della live È fantastica Questa è la dimostrazione Che il metodo Della muffa funziona Adesso Ah bravo Adesso rubami Anche lo slogan Della muffa Si prende i meriti Ale ti organizzo Una shitstorm Sull'account Se no smetti di Allora Allora Non ti piace Frambau Mi sfotti In chat Non ti piace Il sushi Sto facendo Dei Dei favoritismi Eh Per cui dovrei Perdere il posto Di lavoro Ok Ok Perché L'avrei già bannata Una Una persona Che dice Che osa dire Queste cose Ecco Leggi Connor Vado da Connor Leggi Connor Ha pensato fosse uno scherzo Come No Questa persona Perché sei tu No Ha pensato fosse uno scherzo Ma no Quali stanno parlando di cose serie Oh La muffa è una cosa seria Mi manda la muffa Ma che cazzo Sei rimasta a bocca parole A bocca parole Vero Ma stai bene Sì sì Quindi facciamo sesso Dopo questa dichiarazione Quando vuoi Ragazzi Questa è la dimostrazione Di come i miei metodi Di rimorchio Funzionino Sempre Sempre Vi dovete fidare Cecamente Cecamente ragazzi Cioè Edz Proprio Bene bene Me ne vado Sto dodicenne Mamma Mi trattano male Sono appena uscito Da scuola Comunque No A dodici anni Facevo così Cosa fa uno Quando ha dodici anni Sì ma Sturba Cosa fa uno Quando ha dodici Io non mi ricordo Com'è avere dodici anni Non mi ricordo Cosa faccia uno All'età All'età varie C'è uno A quindici A dodici A dieci A nove Non mi ricordo Dodicenne bullizzato È chiaramente Ogni sera Io sono bullizzato Da questa chat Diciamolo Esce da scuola Alle ventitré Falserale Maturo Allora Come vedete Il metodo Della muffa Funziona Non potete dirmi niente Funziona Questa ne è la prova Vedete Quando vedi i didi in pericolo Ma ti ricordi che qualche volta Fa partire la fun music A caso Ok ragazzi L'avete voluta voi L'avete voluta voi Quindi Allora Innanzitutto Innanzitutto Ragazzi Mi spiace Per chi Comunque così Non ha le cuffie Però Qualcosa Sta per accadere Però magari Non accade adesso Accade tra poco Chi lo sa Quando accadrà Chi Chi lo sa Potrei mantenermi Questa schermata Pronta per dopo E farlo partire Quando meno Ve lo aspettate Quindi chi lo sa Quindi Ops Non è successo niente Chissà cos'ho preparato Potrebbe accadere Da un momento all'altro E sarà una bella cosa Per chi non ha le cuffie Guarda i gacci Basta che già sanno Che già sanno Che già sanno Comunque L'avete richiesta Cioè L'avete richiesta L'avete presa in giro Ora Me ne Me ne vado 5 minuti di live così E torno Un follow Ho messo al massimo L'info Spero che vi sia bastato Spero che vi sia bastato Perché potrei fare Di molto peggio So Arribata Che in si vede Io C'è una grossa differenza Fra me e lui Caro Antirenti C'è una grossa differenza Fra me E Walter Junior La grossa differenza È che io non Faccio quasi mai Colazione Quella è la grossa differenza E Walter È fissato Con la colazione Poi per il resto Credo che Siamo abbastanza simili È vero Autism Attacco sul cavallo Perché poi guarda La full music È dentro la clip Non è colpa mia Quindi Cosa volete dire con questo E quindi E quindi E quindi Eh La differenza È la vagina Di Dido Sono una gran figa Non puoi dire niente Della mia vagina Perché è bella Quanto me È bella Quanto me Pepe Christ Pepe Gun Comunque ragazzi Rip Chi non ha le cuffie E vabbè Bene ragazzi Direi che La mia vendetta È stata perpetrata Direi che la mia vendetta È stata perpetrata Chi Non aveva le cuffie Oibo Ah Dovrà spiegare Un po' di cose In casa Dovrà spiegare Un po' di cose Dovrà spiegare Un po' di cose In casa Ma allora Hai una ragazza Sta già andando male Questa Cioè So già che finirà male Questa cosa Toccato un tasto dolente È per la faccia Per i muscoli Sapevo che sarebbe finita Mai Questa cosa Bella È bella Questa È bella Facci caso Che il pod Li decogs È bella Questa qua è bella Secco È sfacca Secco È sfacca Io vi dimostrerò Che anche i secchi Possono amare Facci caso Che il pod Slide Va a tempo Con quella musica No Ragazzi Hai avuto Una pessima Prima impressione Su mia madre No Ale Chiedere scusa Da parte mia Dille che posso Essere migliore Dille che sono Un bravo ragazzo Dille che può Fidarsi di me No Dille che sono Un bravo ragazzo Ti prego Dille che posso Ruined Dille che posso Essere migliore E quindi Ivan Bella meme Bella meme Bella meme Però Però Niente no È una bella meme Hai fatto un bell'uso Delle facce Ti darei un voto Di un bubino Su dieci Almeno Bella meme Dai Si può fare Si si può accettare Però Ivan Sto Sto Lavorando Per 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 Impedirti Di poter fare Queste meme Vedrai Che non potrei più Farle queste meme Vedrai 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 Col cazzo Che ti lascia entrare In casa nostra Chiedere scusa Mettila davanti Allo schermo Mamma di Ale Chiedo scusa Io È stato un file audio Che mi è stato dato Dalla community Per la quale Ora sto Lavorando Non è colpa mia Non è colpa mia Le chiedo profondamente scusa Sono un bravo ragazzo Ok Mandale questo pezzo Per favore Cosa Cosa accade qua Facci caso No Wolfman 12 mesi Ho letto bene Ho letto bene Ho letto bene 12 Ma non sto mentendo Mamma di No Non sto mentendo Mamma dell'Ale No Wolfman 12 mesi Ha detto che vuole vedere La tua cronologia Aspettate Fatemi A parte scherzi Che cosa c'ho io Nella cronologia Che come Aspettate Come si fa a guardare Ok Devo cliccare qua Voi non la state vedendo No Ok Allora Aspettate Ora Vi Vi prometto Che ve la faccio vedere Vi giuro che la sto solo aprendo Perché non Sto guardando cosa c'è Come pot Allora Potete Potete vedere che non sto cancellando nulla C'ho C'ho le braccia qua Ok C'ho le braccia qua Fatemi guardare Ok Ok Ve la posso anche far vedere Mamma di Ale Questa è la mia cronologia Allora Full Music Real Orgasm Non l'avevo visto Vabbè È quello che ho appena messo Ok Real Orgasm Troll Sound È quello che ho appena messo Ok È questo Ok È questo È questo Poi Poi cosa abbiamo Altro meme Vabbè Queste qui sono le vostre cose Le canzoni Super Seducer Forsen Great Job Blizzard Forsen Stream Can you train every day Google Workout Banned Forsen E-mail E-mail Ok Visto Visto Non ci sono cose strane Non ci sono cose strane Non ci sono cose pornografiche Atleani X Lo so Lo so Non ci sono cose strane Sono un bravo Sono un bravo ragazzo Sono un bravo Sono un bravo ragazzo Quindi 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 Ok Anche perché La cronologia Delle finestre In incognito Io Non la uso Cioè No 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 Io uso solo Google vero Non uso le finestre In incognito Non uso le finestre In incognito Quindi Tutto ciò che è È questo Ho visto XXX Temptation Vabbè ma è un cantante Quindi E ho Ho scusato Revenge Perché Revenge È troppo bella Ma è tipo L'unica Che mi piace Quindi Io non uso Schede In incognito Sei un disonore Per la famiglia Mi son giocato Tutto Mi son giocato Tutto No No Di Falle Falle vedere Le mie foto Dove sono in mezzo Ai fiori Così Tutto calmo E tranquillo In modo che si capisca Che sono un bravo ragazzo C'è un sacco Di foto gay In mezzo ai fiori Così eh C'è un sacco Ma neanche quando dormi Sei un bravo ragazzo Monca X Dai State rovinando Tutto ragazzi Tutto Tutto Wolfhen Quindi 12 mesi Devo far finta Che tutto questo Non stia accadendo Se non hai Siti porno Allora vuol dire Che ti masturbi Su altre cose Sì esatto Esatto Perché Esatto Perché sono talmente Un bravo ragazzo Maturo e responsabile Che io vado su google Scrivo Lavoro Ok E guardo immagini Di persone che lavorano Con la valigetta No Le chiavi inglesi Le cose E mi masturbo su quelle Perché il lavoro Nobilita l'uomo E lo rende Una persona Piene Consapevole Ok Ascolta bene Mamma di Ale Amo lavorare Sono un lavoratore Eh Eh Psicologia inversa Quindi Wolfhen Grazie per i 12 mesi Grazie per l'anno Wolfhen Grazie di cuore Grazie davvero di cuore Ha salvato le pagine Tumblr porno Come lo sai questo Come lo sai Grazie per i 12 mesi Perché è un anno Quindi grazie di cuore Perché è davvero Tanto tempo Quindi grazie Se mi disturba con i cuscini Quindi grazie Wolfhen Ancora una volta Perché un anno è davvero tanto E poi Karen Fangirl Torna per il secondo anno E dice L'ho sempre voluto fare Ho dovuto farlo io a voce Perché me l'ero persa Però L'ho fatto Quindi grazie anche a te Karen Grazie Wolfhen Per un anno E grazie a Karen Per i due mesi Grazie di cuore Grazie Ricky O Gli piacciono le segretarie Scopate al lavoro Ragazzi mi state rovinando La reputazione Con la mamma Della Ale Per favore Siate Dalla mia parte E dite delle cose belle Ok Dite cose belle Sul mio conto Non me lo ricordavo così È la prima È la prima volta Che Che vedo una tua meme Mi sembra O forse non ho letto il tuo nome La paura è Del re Porco Dio No No Cosa Ma Cos'è stasera Cosa succede Tutto stasera Ho detto Oddio Ho il pc posseduto Tutto stasera Sta accadendo Tutto Avevo Le reputazioni Avevo che hai Quanto rosso Ero tipo In difficoltà Tantissimo Ero in super difficoltà Qua E ho capito E ho capito E ho capito Adesso si è ufficialmente Bocciata Come se fosse colpa mia Non era colpa mia Non è colpa mia Non è colpa mia Ti prego Oggi che stai bene Doveva essere cringe Troppo cringe Questa live Non ho più Una dignità Una reputazione La mamma dell'Ale Mi odia Ivan mi prende in giro Come ogni altra volta Avete visto La mia cronologia Cose Pericolosissime In questa live Buonasera amici Come state Non ci sono una sera Per una vita sociale Da schifo Che nella chat Partono le bestemmie Riii Tutto grazie di cuore a voi Per esserci sempre Ah Dani Fra l'altro Esatto L'unica volta che non c'eri C'era solo Falls Che non so se c'è adesso Che mi ha detto Che arrivava un po' dopo Non sa fare Il mod C'è gente che bestemmia Per due ore E lui è lì così Dai Dani Grazie per essere tornato Mi sono visto Tutta la live di ieri Nei pomeriggio Non so se fossi indiferita Mi sono divertito come un mato Siete la mia perfetta distrazione Da tutto il brutto Che gira intorno alla mia vita Non potevo chiedere Una cosa migliore Non ho mai Non ho mai smesso di pensarlo E mai lo farò Purtroppo Tra qualche mese È probabile che vi dovrò dare Una non buona notizia Riguardo me Per le live Ma a livello di vita Molto positiva Ma non voglio fare troppo Lo spiegone Semplicemente Perché è ancora Abbastanza presto Ma vi butto già Che forse tra circa Un anno e mezzo Mollerò le live E Twitch in generale Per motivi di studio Ma non mi dilungo troppo Mi spiegherò ben sicuramente A seguire nei prossimi mesi Però se non sono Una live di stasera Divertirci insieme Questa sera Faccio il servizio Della dittatura Grazie Dani B se ama E Giordi la canzone K Non l'ho ancora ascoltata Ammetto Non ho Lo ammetto tranquillamente E Dani Allora È un po' Fist bad man Questo messaggio Perché mi spiace Che tu te debba allontanare Da Twitch E dalle live Però hai detto Che lo fai Per motivi positivi Della vita Cioè Ma a livello di vita Molto positivi Quindi questo è quello Che conta Quindi la cosa È una cosa positiva È una cosa bella Quindi allora Sono contento Mi sono messo a ridere Perché ho letto un messaggio Adesso arrivo Quindi è una cosa bella Quella che Quella che ha scritto Perché alla fine lo fai Per sviluppi di vita Quindi allora Sono appunto contento Però In ogni caso Fino a che ci sei Allora mi godo Il tuo operato No Da moderatore Stavo dicendo Da modder E da mod Va bene E Grazie per averci comunque Già avvisato Di questa cosa qui Anche se accadrà Fra mesi O comunque addirittura Hai detto Fra un anno e mezzo Quindi Ci hai avvisato Con un grande anticipo Grazie per averlo fatto Quello per cui stavo ridendo È che ho letto Dirò a mia madre Che sei talmente un bravo ragazzo Che hai rifiutato una cosa tre Ma hai sborrato Su un opiglione Come fare colpo Sulle madri Ragazzi Raccontate loro Di aver rifiutato Cose tre Ma di essere Così Di avere Eiaculato Cupiosamente Su un indifeso Membro Della natura In ogni caso Ecco In questo modo Le madri Vi ameranno Ovviamente Moderatore Sottopagato Devo incominciare Allora Se incomincio a pagarvi Cari moderatori Se incomincio a pagarvi Particolare false Cambiate il vostro operato Forse Se io ti pago Ma mi sa che non c'è false Se io ti pago Impari a bannare la gente Perché finora Finora avevo pagato Willy Due anni fa L'avevo pagato Willy Però poi Non ho più pagato nessuno Quindi cari moderatori Vi basta la fama E il potere Volete essere pagati E' una domanda seria Questa Perché comunque Parte dell'armonia Che c'è Nelle live E' anche dovuta Al fatto che I moderatori Quando ci sono Controllano La chat E bloccano I casini I spam Le bestemmie Quindi comunque E' in verità Una posizione Che non è da sottovalutare Cioè non è una cosa Che devo Che posso dare Io non do un cazzo Per scontato Figurati Una persona Che la sera Si prende la briga Di controllarmi La live Pagaci Che usiamo i soldi Per le Per le Per le puttane Dani Se lo fai Per una cosa Così nobile Potrei anche davvero Farlo Allora Domani ti mando Il curriculum Il curriculum Anzi ok Che fastidio Che il ddv Si è diventato piccolo Ma non credo Che sia colpa nostra Cioè Io non ho Io non Io non l'ho toccato Quindi non Credo che Sia una cosa Sua Proprio sua E basta Non è una cosa Nostra Non ho idea Provo Al massimo Lo posso togliere E rimettere Lo faccio durante il weekend Lo tolgo E lo rimetto Però boh è strano E' davvero strano Ah è piccolo Solo Solo sulla mia chat Ah ok È piccolo Solo Solo sulla mia chat Ok Ha detto che va bene Basta che non vieni Sui gatti Vabbè Sui gatti no Sui gatti ancora Non l'ho mai fatto Cioè ancora Nel senso Non ho intenzione Di farlo E non l'ho mai fatto Ecco Non lo farò Prepariamoci per uno Dei giochi horror Rivelazioni del 2019 Did Non ti perdi il trailer Perché promette bene Così come la demo Sembra incredibile Speriamo che il re Lo porti quando esce E la madonna Non vi ho mai visti Così gasati Per un gioco Cioè per un gioco horror E' tantissimo Che non vi vedo così gasati Vediamo il trailer insieme The Beast Inside Comunque ce l'ho salvato Tra i giochi futuri Perché me lo avevate Già consigliato Solo che non Pensavo fosse Incredibile Vabbè Di grafica Sembra abbastanza Però sapete Che nella grafica Non è che ci importi Così tanto Alla fine Vabbè Però è bello Sì Pog Ma la risposta L'ansposta L'ansposta Inizia In fronte Nel livello Quella di Sta qua Di Di Imagine Dragon Le armi da fuoco Però Le armi da fuoco Monka 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 Fink Allora Questa roba Non è gameplay E' per questo Che non mi sto fidando Così tanto Di queste immagini Allora Allora Sembra molto figo Ma perché è un trailer Costruito Veramente bene E' un trailer Che è costruito A metà Fra i trailer Di Outlast Che erano Gameplay Ma reso in maniera Un po' più Cinematografica Ogni volta Che sto nelle tue live Mi viene una fame Assurda E' normale E' da due Settimane Che a quest'ora Devo prepararmi Una carbonara Vuoi sapere perché? Perché sono Un bocconcino Ok Scusate Me l'ha servita Su un piatto D'argento Dovevo farla Scusate Sono uno snack La smetto Però Avete visto Quanto sono simpatico Allora E' un misto Fra I Fissi weird E' un misto E' un misto Fra I trailer Di Outlast Che erano Gameplay Ma ha reso Un po' più Cinematografico E I trailer Che odio io Quando sono Solo cinematografici Che non rispettano Il gameplay Quindi Finora Gli do il beneficio Del dubbio Un follone Però le armi da fuoco Me l'hanno fatto Un po' Ammosciare Cioè Ce l'avevo Bello duro 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 Ma le armi Da fuoco Me l'hanno un po' Fatto Ritrarre Indentro Però Comunque Quasi sicuramente Lo faremo Perché Sei un deficiente Eh sì Non è detto Che quello che si vede Nel trailer Sia il prodotto effettivo Di quello che accadrà Nel gioco È quello che ho appena detto È quello che ho appena detto Nei trailer Fanno vedere delle cose Che col gioco Non c'entrano Un cazzo Ora vi do un esempio Chiaro di quello che voglio dire Ragazzi Mi sto drogando Di video Di Ink Master Comunque Mi sto drogando Di video di Ink Master È tipo il programma Più bello del mondo Mi sto drogando X Ink Master È tipo il programma Più bello del mondo Sì Proprio X Ragazzi Proprio X Allora Vi faccio vedere una cosa Command and Conquer E I 3 2018 Allora Vediamo Vediamo se c'è Ecco qua Allora Questo è il trailer Ok Questo è il trailer Wow La grafica è incredibile Che bello Ma è proprio incredibile Guarda I missili No Le grandi battaglie È proprio incredibile Però il gioco È questo Quindi Come capite Il trailer I trailer Sono la cosa Meno affidabile Del mondo Non O è puro gameplay E si capisce Che è gameplay O se no Non c'è assolutamente Possibilità Di fidarsi Se vuoi viverti Una specie Di Ink Master In prima persona Basta che vieni Ogni giorno In accademia Con me Ma Guarda che lo farei Ma Magari È una cosa davvero Figa Lo farei come Lo farei come Quando compri Quando compri qualcosa Online Ma Ti arriva Altro Esatto È la stessa cosa Quando esci con una Ma poi ti accorgi Che ha la banana Ed è lì È ancora meglio Cazzo Lì Esulti Ho visto il trailer Della nuova season In The Walking Dead E mi sono spoilerato tutto Sono molto autistico Ice Channel Mi sa che in questo caso Hai fatto una cazzata E Dolphin Tear È il mio animale Preferito Non ho capito Alex Però Questa non l'ho capito Gioco bellissimo Da portare Per tutti noi Weaboo Steins Gate No Conosco di nome So che è un fottuto Onichiwa Koniwa Weaboo Anime Mi scopo i cuscini Condisegnati sopra Le tipe degli anime Però Assolutamente Come vedete È una Visual novel Quindi non è Per le live Cosa offre la casa Vesurve Allora vabbè Li vedo tutti E ne ho chiuso uno Perché sono handicappato Memoria Non è adatto per le live Frate ce l'ho questo Ce l'ho Non l'ho mai Giocato ma ce l'ho Vesurve Ok Vesurve Sembra un horror Di quei Ragazzi Ve ne siete accorti Chi di voi Se ne è accorto Vediamo se qualcuno Di voi Si è accorto Di quello Di cui sto parlando Senza chi Senza chi lo dica Vediamo se qualcuno Di voi Si è accorto Chi mi segue Da un po' Di tempo Se ne Mi potrebbe Bravo Esatto È la casa Di house party È letteralmente La casa Di house party Stains Punto e virgola Gate È bello Sul serio È la casa Di Qui c'era la tipa Che ballava Tu Quella lì Fattissima Quella Quella Strobriaca Mentre qui Dalla cucina Dov'era Vabbè Non lo trovo più C'era quello Pelato Che vi menava Se prendevate Le bottiglie Di alcol È la casa Di house party Ragazzi Che tristezza Prendere gli asset E usarli pari pari Però lo giocheremo Quanto costa 1,99 euro Minchia Ci sono un botto Di saldi In questi giorni Non vedo l'editori Mi sto esame Così durante il giorno Ho tempo Di girare un po' Su steam E comprarmi Un po' Di roba Da portarvi in live Ricordi Feels ok E io lo riporterei A house party Ma è bannato Da twitch Questo sembra Una cagata Behind the door Sembra Ah Questo ci può stare Quanto è 39 centesimi Subito Mio Mio E No E lei noire Assolutamente no Perché è troppo lungo Ed è monotono Dopo due minuti Ciao Giorgetto Pasciarnado E ciao chat Ti ho iniziato a seguire Dopo il tuo primo video Sul canale Me la godo E ti ho seguito Per tanto tempo Su youtube A che le live in differita Però senza seguirle mai Su twitch Ho iniziato da poco E ho capito Che grosso errore Stavo commettendo A non seguirle Grazie L'autismo di vampa Un po' come la lava Sul popocatepetle Comunque per farla breve Sono davvero contento Di stare tutte le sere In compagnia Di una chat così tossica E di un Fortnite streamer Che secerne Smegman dalla bocca Non so proprio A cosa ti riferi No Inca già ho perso Ogni chance Con l'ale Non voglio fare sta cosa Lunga vita L'uomo più ricco di Geva Non che re Bless RNG Appena trovo lavoro Ti dono tutti i miei averi A te E a Tetragrammaton Hai sentito bro Visto che bello No comunque no Non donare Tranquillo Non devi Sapete Io Ve lo Dico sempre Le donazioni Non sono mai richieste Sono sempre Ovviamente apprezzate Vi ringrazio due ore Ma non Ma non Ma non sono mai richieste Quindi Quest'ultima frase qui Stai tranquillissimo Davvero Larkin Ottaviano Stai tranquillissimo A me Basta che ci siate In chat Che vi divertiate E vabbè Tanto peggio di così Non può andare Ho perso ogni possibilità Seriamente Cosa sto vedendo Io qua Old but autistic E vabbè E vabbè Sapete ragazzi No quando Quando comunque no Siete lì Che In verità No Ci tenete Ci provate No con una persona E poi cominciate A sputarvi addosso E a fare quelle cose lì No Ecco No Non è una grande idea Quella La tattica della muffa Funziona Quest'altra Non lo so Sì lo so che Sembra Ivan Se tu Sia Ivan Non so che Sembra Il zio greggio Quando dopo L'ennesimo crunch Inizio una lente In Innesimo Allora Questa Questa purtroppo Non la possono capire Cioè non la può capire Che donness You are already Logged in Aiuto Cosa succede Successfully Logged in Ok Allora Questa non la possono capire Le persone Almeno che non la spiego Però Questo tizio È il tizio Vogliamo Un ASMR Con il tuo smegma Che compare Sempre nei video Che mi compaiono Su youtube Di allenamento Addominali Allenamento Quelle cose lì Vogliamo Un ASMR Con il tuo smegma Michele Insomma Allora Prima Fammi assestare Le cose E Non farmi bruciare Tutte le possibilità E le chance Che ho Poi farò L'SMR Con la bocca Proprio Colante Smegma Ok Proprio Ti colo Rivoli Di saliva Sporca Ovunque Ok Ma prima Non farmi bruciare Ogni chance I miei genitori Mi chiedono Ma insomma Le parlaci un po' Di questo dito Sì ecco Insomma Prendi tempo Prendi tempo Una vergogna Per la famiglia Intera Lulvu Non so come Ma riesco a cantare La prima strofa Di sta canzone Futuro rapper Non conosci me Continua ad ascoltare Bene questa canzone Allora Dai Easy Dammi qua Easy Vediamo un po' Chi è quest'uomo Dai Molto piacere Io sono sensei Se non mi conosci dai Mettimi in play Continua ad ascoltare Bene questa canzone Prova ad arrivare Fini in fondo Come faccia Shagley Se tu pensi Che questa limo Non si prestia Fare bene rap Veloce come i negretti Te la posso dimostrare Allora La parola con le n Però Sì l'avevo già sentita È vero È vero È vero È vero È vero È vero Sono obbligato Di indossare Di capote In italiano Nessuno fa Dele rime Pure da superfatto Chi mi sente neppare Rimane stupefatto Valgo per tre Come la trinità E faccio un patto come Allora Ci posso provare Ma non conosco il ritmo Quindi è tipo impossibile Molto piacere Io sono sensei Se non mi conosci dai Mettimi in play Continua ad ascoltare bene Questa canzone Prova ad arrivare Fondi con sasso C'è grazie Tu pensi che questa limo Non si presto Fare bene rap Non lo faccio 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 Sono problemato Però non lo faccio Di problemi Che la vita Non ho fiato Ha vinto lui Non ho fiato Non ho fiato Devo lavorare sul fiato Riesco ad andare veloce No Mi sono incartato In un pezzo Mi sono incartato In un pezzo Seconda cosa Non ho fiato Mi dispiace Mi dispiace Fuori tempissimo Non la conosco Non la conosco Come faccio a farla Se non la conosco A noi basta L'eminem Delle 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 Bizzate Non la conosco Non posso farla uguale Il re non ha perso Il re non perde Il re al massimo Rimanda A quando avrà più fiato E allora imparala Ma non adesso In live Altro posto No Altro posto Ma è un parere Il metodo di chiamare I posto Così 0 e 50 Dio 0 e 52 Sono curioso Non saffermi Fare niente Melbourne rain Fall on me again Melbourne rain Around my feet Stuck on your doorstep Ok carina Carina Lamento ne guarda più tardi Carina Ci sta Non male dai Carina Strano Strano che io accetti una vostra canzone Però guarda cosa c'è nei correlati West Virginia Alabama Ma si è Mountain Mama No è Alabama Banna 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 Delul Piccolo assaggino Per domani Che non potete editare Neanche oggi Chi è sto A chi A chi A chi avete Raidato Grazie Cri Cri Per Eh aspetta che non sento Grazie Cri Cri Per Il follow Grazie No sono italiani Tranquilla che sono Sono i miei ragazzi Sono italiani Tranquilla Sta capendo che è un ride Ah sono tre Mutali per 600 secondi Tutti a tre No Banna The fuck Ok Non credo sia andato bene A questo ride Non credo che sia andato bene Come gli altri Ho qualche Sospetto che questo ride Non sia andato così bene Hyperlule Ed è qui Che esce La vera tossicità Di questa community Così Si fa Suicidio di Ma Cosa c'è Non ho neanche Non lo puoi sentire Mangio la frutta Mi sono fissi Mi sono fissi Con le bacche Si Ah Questi tu Bella Ragazzi È più È più secco di me Non dico altro Almeno io un po' di linee Muscolari Ce le ho Cos'è sta immagino Non è mai lui Non è lui Non è lui E sono due persone diverse Sono due persone chiaramente diverse È più È più secco di me Uno Punto due Io vestito nudo Sono molto meglio Vestito nudo Sto molto meglio Comunque È veramente Pessima Quelle 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 Come Come cazzo lo chiamo Non lo posso chiamare cantante Ha essertato due bizzate Vado Non lo posso chiamare cantante Non è un cantante Quelle Questo ragazzo Ok È veramente Pessimo Cioè Allora Gali Con noi Nelle live è diventato una meme È divertente Perché Ora so di mango Fumo verde Divento dende Testi senza senso Ma che hanno quel minimo Di che Tale da farli diventare meme Ok Lui invece no Proprio lui mi sta sui coglioni Punto Non offende Stain's Gate Se è un capolavoro A livello di trama autistico pazzo Ti spruzzo lo smegma sotto le unghie Come se a me non andasse bene Stain's Gate è bello Su se ti consiglio di guardarlo E anche in italiano Allora ragazzi Hai notato che non stai battendo più il pugno Sua schivania Pepe Ense No Non me lo Non ce l'ho neanche fatto caso Ma perché magari dico No E dico qualcosa E Appunto Non è Non ha neanche quel non so che Da dire Minchia Questo ragazzo Può diventare una meme Con noi No non può Non ha quel non so che Cioè È già diventata Molto più una meme Il crotalo Quando ci ha mandato la foto Dove era lì con la pistola Che gli avete fatto la meme Il padrino Sembra incredibile Ma il video è stato caricato oggi Mi trovo proprio la canzone del re A 7 e 11 No veramente Ragazzi Lì si vede la qualità Si vede Menti brillanti Ragionano in maniera affine Vedete io PewDiePie Ice Tutte menti brillanti Che unite No California bill One year in jail One year in jail For using Wrong transgender Pronoun Act to exterminate The humanity Ma veramente Cioè un tizio è stato No vabbè Sarà una fake news Questa vabbè Questa fake news Dice Che un tizio è stato Messo in galera Per aver usato Il pronome Transgender Sbagliato Non fatemi Incominciare Con questi discorsi Ragazzi Vi prego Sapete che mi triggero Sapete che mi triggero Da morire Con queste cose Sapete Un culo Sapete che mi triggero Da morire Meno male Che ho l'ultra istinto Ok Ho aperto due Not safe for work Comunque no Non mi fate partire Quei discorsi Sui Non sui transgender Non quelli Sui pronomi Perché Mi 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 triggero Ogni volta Mi Mi triggero Troppo C'era in una live Ice Era andato da una tipa Gli aveva parlato E poi lui L'aveva detto Vabbè This woman E lei è tipo impazzita Ha incominciato a gridare I'm not a woman Così Ma Non perché era un trans Ok Ma perché lei No Si Si riconosceva Sessualmente In chissà cosa No In un calorifero In quello che E cazzo No Lui non ti ha offeso Lui ha solamente detto This woman Perché esteticamente Appari come una donna Non perché Cioè nel senso Minchia impazzita Si è messa a gridare Si è messa a gridare Non ve lo posso far vedere Perché Rischio ban Però Cioè quelle cose Mi triggerano Comunque Cos'era il nostro For work Ah è Momo È Momo È Momo Vabbè però Con il trucco Addosso Con l'eyeliner Tipo le cose L'ombretto Lo conosci Hotel Dusk Si lo conosco Lo conosco Aveva una trama figa È vero Ma non l'ho mai giocato Per davvero Da notare il lago Aoni È vero È vero Pari pari La sagoma Di Aoni È vero Oddio che Che occhio Che fantasia Incredibile Far vedere Una cronologia Pulita Senza cose sconce Real female No In verità era Real female Orgasm Prank Che è quello Che vi ho fatto Partire prima Fra l'altro Fra l'altro Il nero di seppia Fa miracoli Assolutamente Ragazzi Prima o poi Mi devo truccare In una live Completamente Però mi devo truccare Completamente In una live Nero di seppia Mascara Eyeliner Tutto Tutto Reputazione di dito Autistico Sborda su un ragno Rimorchia le minorenne Alla passione Per il cazzo Tutte cose Con le quali Discuto giornalmente Con i miei a tavola Comunque sono cose vere Insomma No Perdonami Con aiuto Cos'è Alfa 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 Beto Ok geniale Questa qui è geniale Questa qui è geniale È fantastica Alfa Alfa Beto Ok Geniale Bravo Chi era Chi era il genio O la genia Di A N O A E O Manu Complimenti Cazzo Manu Complimenti No aspetta Perché non l'ho salvata Sta qua la salvo subito Questa è Stupenda Dir poco La salvo subito Complimenti Per la creatività A 2000 Complimenti Sta qua era davvero bella Sta qua era bella Per te immaturo Dovevo dirlo Un dubbio Lo Lo conoscete tutti Anche chi non lo loda Ma lui no Come si chiama Dio È Gesù È tipo Ma chi è È Ciarra Ciarra Dio santo Ciarra Ciarra Ragazzi Sapete già cosa fare Ciarra Ciarra E Fiss Weirdman Ciarra Veramente Fiss Weirdman Veramente Sono Ogni volta Confuso Quando vedo un tuo post Riferito a prima Andrea Di Pè si fece dare Così tanti calci nelle palle Che si gonfiarono E si fecero viola Sameada È molto bello Sapere anche queste cose Comunque sono cose Che arricchiscono La vita E Lo scibile Però Ma dopo che farei Il chiamo dell'ospetto Vuoi fare anche Gli atip 3ds